Oggi ci troviamo finalmente dinanzi a una crisi di coscienza con cui noi possiamo confrontarci. Anche il Battista si era fatto un'idea precisa del Messia, l'idea del popolo, che sarebbe venuto a mettere a posto le cose, a riorganizzare le cose. E invece i prepotenti erano sempre sul trono e lui era in prigione, ingiustamente. Ecco la crisi. Manda dei messaggeri a chiedere ma sei tu il Messia oppure dobbiamo aspettare un altro? Gesù risponde come abbiamo sentito dal Vangelo. Il Battista accetta tutto questo, accetta il Messia e dà il sommo sacrificio della vita in testimonianza di lui. Quante volte anche noi siamo delusi e quante volte anche noi entriamo in crisi, in crisi di speranza. Speravamo tante cose, avevamo dei piani, avevamo dei progetti, la nostra famiglia, i nostri figli, i nipoti, gli interessi, la certa sicurezza, dà la certa certezza. Avviene la vita che sconvolge, magari tutto butta per aria tutto e dobbiamo riorganeggiarci da capo. Cresi di fede. Ci eravamo fatti la nostra fede imparata fin da bambini. È una chiesa che non cambia mai, è sempre la solita, sempre la stessa e magari alcuni dicono arriva Papa Francesco e butta per aria tutto. Ma qui non si sa più a che cosa credere. Ma allora, allora la chiesa non è un museo, ha ragione il Papa. La chiesa cammina e dobbiamo aderire il nostro pensiero al pensiero di coloro che sono preposti e che ci guidano. Crisi di carità, figli di carità, speravamo. Avevi dato un'educazione ai tuoi figli, avevi preparato una famiglia, gli avevi dato una sicurezza. Ecco che arriva la nuora che mi rovina il mio figlio che l'ho preparato. Oppure arriva il mio successore e butta per aria tutto quello che ho fatto io. Oppure viene distrutto quel piano strategico che io avevo organizzato perché l'industria, l'impresa andasse nel modo migliore, salta per aria tutto, butta per aria tutto. Non siamo noi che facciamo la storia. Non siamo noi che facciamo la storia. E allora a che cosa ci porta la soluzione del Battista? A rendere grazie al Signore che è il totalmente altro, a cui non resta che vive è offrire la nostra fede, che è il fondamento di tutto, che è l'abbandono in Dio. Accettare il Dio come veramente è, non come ce lo siamo fatto. Accettare la vita come veramente è, non come ce la immaginiamo. Affidare tutto il passato a Dio, confidare nel futuro e vivere intensamente il nostro presente, in cui Dio è presente. Dio è già in mezzo a noi. E come abbiamo detto altre volte, aspettarlo significa accorgercene che è qui e che ci guida. Buona domenica.